Musica Allora cominciamo dal Santo del Giorno, oggi in realtà la Chiesa ricorda la presentazione del Signore e allora che cos'è oggi anche la giornata cosiddetta della Candelora insomma questa festa origine in Oriente e dal IV secolo si diffuse anche in tutto l'Occidente e dicevo è oggi considerata un po' chiamata in antichità insomma in passato era la festa delle luci poi diventata insomma la festa appunto della Candelora per l'uso popolare di benedire le candele in passato infatti le candele benedette venivano conservate con cura e riutilizzate negli avvenimenti importanti della vita della famiglia oggi per lo più sono diventate insomma ornamentali e hanno poco significato anche se ancora riescono a creare atmosfera il sole è sorto alle 7.23 tramonterà le 17.21 minuti il cielo sarà parzialmente nuvoloso per il transito di nuvole stratificate con maggiori addensamenti sui rilievi appenninici le precipitazioni saranno possibili anche se brevi e occasionali in particolare sul settore settentrionale in provincia di Peso Rubino le temperature sono senza variazioni di rilievo per oggi per domani venerdì 3 febbraio invece vedete come il tempo peggiore avremo durante le ore centrali della giornata deboli piovaschi sparsi nelle zone interne ed occasionali sulla costa le temperature stazionari un lieve aumento per sabato 4 febbraio ancora deboli piovaschi durante le ore notturne che si esauriranno al mattino fenomeni invece assenti durante il pomeriggio durante le ore centrali poi riprenderanno dal pomeriggio anche con deboli piogge continue diffuse inizialmente nelle zone interne poi si estenderanno al resto della regione le temperature sono stazionarie per quanto riguarda i prossimi giorni la tendenza avremo condizioni di variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti e peggioramento per l'inizio della prossima settimana la cronaca quella ragazzina dell'entroterra pesarese che è stata ricattata da un ragazzo di 23 anni all'inizio si sono conosciuti su un sito internet, su un social network come al solito avviene tra i giovani qualche battuta, qualche intimità di troppo e poi insomma si è passati allo scambio di fotografia o meglio la ragazza ha accettato di inviare a questo giovane delle foto un po' sexy e che cosa è successo? è successo quello che succede poi spesso quando c'è un rapporto un po' così e la ragazza è stata minacciata, è stata minacciata perché queste fotografie aveva detto che le avrebbe pubblicate su internet se non le avesse dato dei soldi la ragazza ha accettato, per un po' ha pagato, poi dopo stanca, ha detto tutto ai genitori e sono andati dai carabinieri i carabinieri di Saltara hanno teso una trappola e così poi il ragazzo, il giovane è stato arrestato ricatto a luci rosse, siamo sul resto del Carlino i soldi oppure mostro le tue foto nuda estorsione alla ragazza adescata su internet prima le coccole online, poi la conquista, infine la richiesta di 1000 euro arrestato un giovane di origini tunisine questa è la prima pagina di Fano del resto del Carlino e sul Corriere Adriatico invece, eccola qua, la notizia ragazza ricattata per le fotos è il giovane conosciuto tramite un sito web tanto per chiarire, il sito web è Badù è uno di quelli che insomma è proprio quasi specializzato per questo tipo di incontri il giovane conosciuto tramite un sito web le ha chiesto soldi per non divulgarle prima lei gli aveva dato denaro spontaneamente poi dopo, come dicevo, è andata dai carabinieri che hanno teso questa trappola a questo giovane all'appuntamento infatti dove si dovevano incontrare lei e lui c'erano anche i carabinieri, i militari che però erano camuffati da spazzino, ambulante, mendicante poi quando il giovane ha messo le mani sui soldi zac, si sono palesati, si sono qualificati e poi lo hanno arrestato in flagranza di reato questa è la pagina del Corriere Adriatico su questa notizia la prima pagina del Corriere, eccola qua allora si parla del restyling del centro storico di Pesaro che darà anche sicurezza questo avviene dopo la maxirissa dei giorni scorsi sono le contromosse del comune che contro appunto questi giovani sbandati alcol, telecamere, l'opposizione bussa mentre a centro pagina la fotografia è per l'uscita di scena anticipata del segretario generale della regione Marche Costa se ne va al tesoro la regione perde l'asso per il sostituto in Pol c'è la Giraldi e allora vedete a pagina 2 la fotografia del piazzale dove nei giorni scorsi c'è stata questa maxirissa con tre persone coinvolte quattro persone condannate o meglio condanne per quattro mesi due poliziotti feriti i tre arrestati dopo il processo e la condanna sono stati rimessi subito in libertà e questa dicevo è la piazza dove è avvenuto qualche giorno fa questa maxirissa la pagina di Fano del Corriere eccola qua tagli oculati nel bilancio del comune ma i servizi sono garantiti l'assessore Cecchettelli sul preventivo 2017 mal di pancia di Riccardo Severi le scelte per lui sono da rivedere contestato dal capogruppo di Noi Città il drastico taglio ai contributi all'università poi ancora sempre dal quotidiano delle marche per attenzione le cartelle esattoriali anche Fano anche Fano aderisce e quindi c'è la sanatoria il comune aderisce alla rottamazione sul sito web ci sono i moduli per i contribuenti quindi se avete ricevuto delle cartelle esattoriali tra il 2000 e il 2016 da Equitalia oppure da altri soggetti tipo il comune Perlici, Limo, Latari, Latare oppure le multe per le violazioni al codice della strada bene sappiate che c'è questa facoltà di rateizzarle e di non pagare anche gli interessi solo per le violazioni al codice della strada invece non sono dovuti gli interessi le somme aggiuntive dovute per il ritardo del pagamento la rateizzazione dei pagamenti se richiesta potrà essere effettuata al massimo in 5 rati di pari importo alle scadenze che sono il 31 luglio il 31 ottobre, il 31 gennaio 2018 il 30 aprile e il 30 settembre attenzione il mancato ritardo pagamento anche di una sola rata comporta l'immediata decadenza del beneficio della definizione agevolata quindi non dovete saltare nemmeno una rata perché altrimenti poi salta tutto il piano di rateizzazione, ve li chiedono tutti subito a Marotta, Marotta rimarrà unita ora indietro non si torna secondo l'avvocato Galanti del comitato che appunto si autofinanzia per dare battaglia legale Galanti dice il futuro della cittadina di Marotta non può dipendere dal voto dei residenti di Bellocchi o di Fenile di Fano e il sindaco di Mondolfo dice adesso faremo il possibile affinché insomma tutta questa cosa non... insomma perché non si torni indietro perché non si torni divisi Marotta ha deciso di stare sotto Fadi sotto Mandolfo e così rimarrà il presidente Vitali del comitato in 60 anni non ci siamo mai arresi e non lo faremo adesso abbiamo detto nei giorni scorsi che il Catria ha inaugurato questa funivia nuova la cabinovia adesso non mi ricordo come si chiama ovovia una roba del genere ecco 3 milioni per il Catria sono per gli ambientalisti uno spreco e uno sperpero di risorse infatti gli ambientalisti contro i nuovi impianti l'appello alla provincia per imporre la via che è la valutazione di impatto ambientale dunque questo massiccio investimento della regione sulle sciovie ecco il nome esatto sciovie del monte Catria costituisce per ragioni ambientali e meteorologiche uno sperpero di denaro pubblico intollerabile a fronte del taglio dei servizi sanitari in particolare della penalizzazione dell'ospedale di Cagli nello stesso comprensorio sostanza è inutile spendere tutti quei soldi per le sciovie quando poi tagliate la sanità lì sotto c'è l'ospedale di Cagli che sta andando a rotoli ecco questo è in sintesi il motivo per cui c'è stata questa uscita pubblica degli ambientalisti e non solo a Senigallia invece è stata ritrovata la ragazzina nigeriana scomparsa era sparita a novembre dal centro di accoglienza di Catania ed è stata ritrovata in via Sanzio poi guardate questa fotografia sempre da Senigallia la psicose alluvione allarme si aprono crepe lungo gli argini del Misa dalle vistose si vedono delle vistose crepe adesso ve le indico anche con la freccia e con l'evidenziatore eccole qua queste crepe adesso le segno segno ecco vedete bene delle vistose crepe dicevo lungo gli argini del fiume Misa nel tratto che attraversa il centro storico hanno destato la preoccupazione di residenti e di commercianti c'è un pirata della strada che altro non era che il marito di un'amica di infanzia della proprietaria della Fiat Panda che è stata danneggiata da questo uomo che questo automobilista che sabato notte è andato a finire contro quest'auto parcheggiata poi però si è dileguato dopo averla urtata e adesso la notizia è che questo pirata vandalo si è consegnato e ha detto io non ho visto l'auto in sosta e quindi svelato il mistero a tre castelli le scuse e naturalmente il pagamento dei danni se vi piace il rugby sabato alle 15 a Iesi c'è una mega sfida nazionale straordinaria la sfida tra la nazionale azzurra e quella del Gales che tra l'altro è valida per il trofeo 6 nazioni ci sono già sicure 3.000 persone presenti per una partita che sarà uno spot per la palla ovale quindi per questo sport ma anche per la regione Marche da Sasso Corvaro c'è l'intervista alla sorella e al padre e al figlio di Alessandro Vitaletti il professore ucciso da questo signore qua Sebastiano Di Masi che adesso è in carcere accusato di omicidio volontario l'ha colpito con 24 coltellate il professore morto di sanguato e Sebastiano continua a dire questo 55enne arrestato dopo tra l'altro una fuga di neanche 24 ore di essere stato aggrituito per primo ed aver tentato di difendersi strappando il coltello dalle mani dell'insegnante ma i primi risultati che sono emersi dall'esame medico legale dimostrano invece che l'assassino ha infierito come una furia colpendo a ripetizione con una lama lunga e affilata capace di trafiggere anche il giaccone indossato dalla vittima l'autopsia dice due fendenti letali e molte lesioni da difesa sulle mani la difesa è quella del professore e qui dicevo le dichiarazioni del figlio di Alessandro Vitaletti che dice amava mio padre amava la pace e il dialogo e invece sulla pagina sempre del Corriere Adriatico Porto dei Carati furto sciocca all'oratorio Don Bosco i ladri portano via il defibrillatore pensate il macchinario ha una funzione salvavita per la struttura e per buona parte di Porto Potenza è stata rubata questo defibrillatore all'oratorio poi da Pesaro invece torniamo su Pesaro il fuoco guardate queste immagini sono le stesse che vi abbiamo mostrato ieri sera in diretta sul telegiornale il fuoco divora un capannone scintilla forse partita per gioco siamo a Calcinelli Colli al Metauro escluso il cortocircuito adesso si indaga su alcuni ragazzini che entrano ed escono nello stabile abbandonato e secondo incendio in questa ex mobilificio ex Simon i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza poi per spegnere l'incendio e questo è il Corriere Adriatico velocemente andiamo adesso sul resto del Carlino torniamo sulla pagina di Fano perché la notizia è che il sindaco di Fano Massimo Seri dice no alla Profilglas su Chiaruccia il sindaco alla Profilglas dice a Chiaruccia non si va ieri c'è stato un incontro tra il primo cittadino e la Ditte dunque dice no all'espansione di questa importante azienda che produce che lavora l'alluminio a Chiaruccia quell'area dice il sindaco Massimo Seri è destinata ad un'attività ad attività di servizio con vincoli stringenti da parte dell'Asur e poi sotto anche qui la notizia della fabbrica chiusa che doveva essere venduta che è andata in fiamme la Simon di Calcinelli era accaduto anche nel 2014 e poi ancora manca il Palasport sempre dalle pagine di Fano eccolo qua guardate questo progetto del nuovo Palasport commissionato da Ruggeri allo studio tecnico Canducci di Pesaro 2000 posti a sedere Ruggero Damiani operatore del settore dice costa un milione siamo a Fano eh carenza cronica privato presente un progetto e chissà che magari non si riesca a trovare questo milione per realizzare questo Palasport che in effetti manca davvero nella città di Fano poi parliamo del carnevale il carnevale di Fano sfilata in bianco e nero da Borgo Cavour il pupo torna nel cuore della città vecchia i fanesi potranno ammirare in anteprima il simbolo dell'evento che è appunto il pupo e quest'anno la novità si chiama El Selfie ed è una creazione del maestro carrista Giovanni Sorcinelli è tutto da vedere tutto da scoprire c'è questa questa iniziativa questa presentazione per le 16.30 Borgo Cavour dove è atteso appunto il il pupo volevo darvi anche il giorno esatto dovrebbe essere sabato pomeriggio alle 16.30 il pupo quest'anno dice Sorcinelli rappresenta un voulon pieno di sé uno sbruffone un gradasso adatto all'epoca moderna l'appuntamento è per le 16.30 appunto è comunque sabato dai su poi sulla pagina sempre del Carlino da Urbino fa la pipì su un monumento viene multato da 3670 euro a studente la bravata è costata molto cara la polizia ha identificato tramite le telecamere degli autori di questo gesto tantissimi giovani vomitano e addirittura defecano nei vicoli quasi mai vengono scoperti questa volta gliel'hanno fatta pagare cara spacciavano droga invece ai liceali sono stati denunciati incastrati dagli uomini del commissariato di Urbino l'ultima partita invece questa notizia drammatica tristissima di quelle che ti rovinano le giornate l'ultima partita di Antonio sei anni ha sfidato la morte con il sorriso l'addio al piccolo che ti fava VL la squadra di basket di Pesaro il ricordo struggente del primario che ha l'ha curato l'ha tentato di salvarlo ma non c'è stato niente da fare una malattia terribile che lo ha portato via a soli sei anni Antonio con il capitano della VL Giulio Gazzotti il 22 dicembre scorso al Salesi di Ancona a sinistra invece con il medico che l'ha seguito per anni Filiberto Martinelli ex primario della rianimazione anche in alto a destra e purtroppo come dicevamo adesso non c'è più non è più qui è sicuramente in un posto migliore però non c'è più allora l'ultima pagina anzi la penultima anche qui vedete dal resto del Carlino puoi rottamare la cartella comunale ma gli interessi li devi pagare i comuni si adeguano per i mutasi Tari e le altre imposte locali l'ultima pagina è per la politica la politica la leggiamo dal Corriere Adriatico eccola qui noi siamo contro Renzi ma mai contro i sindaci Giovanelli guida la minoranza del Partito Democratico dice non è una fronda e questa è l'ultima pagina della nostra rassegna stampa grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti